Cosa fa? Sta bevendo led! Dobbiamo fermarlo! Dobbiamo fermarlo! Ah! No! Preghetti! Ah! Ah! Giorgio, va tutto bene? La nazione, avanti devi essere più forte. Forza, Ebit. Mi stai, mi tornero un po' te. La nazione, avanti devi essere più forte. Siamo parti da Clive. Siamo, lo vediamo insieme. Sei pronto? Pronto! Arrenditi! Come affrontiamo un simile potere? E' dentro nel nostro, Joshua. Siamo, un salto! Siamo, un salto! Siamo, un salto! Siamo, un salto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.